Vesux Concept Food, un'esperienza gastronomica tra tradizione e innovazione. Vesux Concept Food è braceria, pizzeria, burgheria, gastronomia in un ambiente ampio e spazioso dal design industriale. Pizza e panini sono anche gluten free. Vesux Concept Food è anche lounge bar con il banco salumi dove gustare ricchi taglieri o semplicemente un aperitivo o un cocktail. Ampia la carta dei vini e la selezione di birre. Vesux Concept Food, Casoria. La primavera del Napoli conferma di avere lo status dell'ammazzagrandi. Conquista contro l'Atalanta la prima vittoria interna nel campionato, dopo i tre successi in trasferta contro Bologna, Juventus e Milan. Gli azzurrini guardano alla classifica con il sorriso. Occupano il terzo posto, una bella iniezione di fiducia per una squadra che ha la salvezza come obiettivo. Brambilla, dopo le fatiche della trasferta di Manchester e Youth League, tiene a riposo Omar, uno dei migliori talenti del campionato. Il primo tempo si gioca a ritmi bassi. L'Atalanta si rende pericolosa su calcio piazzato. Al diciottesimo, Idasiak si oppone alla punizione dal limite di Renault. L'esterno dell'Atalanta, due minuti dopo, inventa un cross per Fisic, che di testa manda il pallone al lato. Il Napoli va in vantaggio alla prima grande occasione. Al ventiseiesimo sblocca il risultato d'Agostino, che segna il suo primo gol stagionale. Uno splendido tiro di destro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Su assist di Ambrosino, bravo a combinare al limite dell'area con Spavone. Il Napoli va in fiducia, gestisce bene il vantaggio, tenendo a bada l'Atalanta. Al trentottesimo, Cioffi prova il tiro a giro dalla lunga distanza, ma non trova la porta. Il pallone finisce abbondantemente al lato. Nell'intervallo, Brambilla tenta di raddrizzare la partita con i cambi. Entrano Zuccon, Omar e Ceresoli. Perciwisa, Fisic e Regonesi. Al cinquantatresimo è il Napoli a rendersi pericoloso. Va al tiro di Dona. Blocca Daikar. Gli azzurrini sono compatti, non lasciano spazi. L'Atalanta non riesce a velocizzare la manovra. La pressione cresce solo nell'ultimo quarto d'ora. Al settantaquattresimo, Sidibe va al tiro dal limite dell'area. Blocca Idasiak. Al settantaseiesimo, il portiere polacco dice no a Renault sugli sviluppi di una punizione. Idasiak alza la saracinesca e difende con i denti il vantaggio azzurro. All'ottantaduesimo si supera ancora, stavolta su De Nipoti, che si inserisce in area di rigore e va al tiro. Il portiere polacco si distende e manda il pallone in corner. All'ottantaseiesimo, altra punizione dell'Atalanta. Ancora un tiro di Renault e Idasiak interviene anche stavolta. Il Napoli è pericoloso con le ripartenze. All'ottantottesimo, Pesce si fa beccare in fuorigioco sull'assist di Didona. Gli azzurrini sprecano una clamorosa occasione. Al novantesimo, la chance si ripresenta. Stavolta si inverto nei ruoli. Pesce serve Didona, che però si allunga il pallone e trova la risposta di Daikar in uscita. L'Atalanta si salva e va all'assalto finale. Idasiak respinge un altro tiro di Omar. Poi Mediero non inquadra la porta. I neri azzurri le provano tutte fino al fischio finale. Sugli ultimi calci d'angolo arriva nell'area del Napoli anche il portiere Daikar. Finisce 1-0 a Cercola. Il Napoli porta a casa altri tre punti preziosi e può pensare ai prossimi impegni. Mercoledì arriva il Cosenza per i sedicesimi di Coppa Italia. Il campionato torna domenica con la trasferta di Empoli.